E' di sicuro opera di William. Ferma, dove sei? Allette Birkin. Stava cercando lei? Non c'è più tempo. Devo sbarazzarmene. Siamo qui per il virus G. Puoi scordartelo. L'avverto, dottoressa. Ah, sì? Ferma! Non avrete mai il virus G! Non sembra la tipica scienziata. Leon! Non pensi a me. Lei vada. La fermi prima che scappi. Sono fuori dalla struttura. Inseguo a Net. Se non ce l'ha lei, sarà nel nest. Una volta preso, ordinerò l'estrazione. Corri quanto vuoi, Annette. Ma non puoi nasconderti. è l'ora del gioiellino. È l'ora del gioiellino. Un gioco da ragazzi. Un gioco da ragazzi. Quattro. Non, non. Quattro. Grazie a tutti. 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 Account d'ospite confermato. ID autorizzato fino al primo ottobre. Restituirlo entro questa data. Non credo proprio. Grazie a tutti. Basta giocare a nascondino. E va bene. Cambiamo gioco. Dimmi. Tuo marito è ancora vivo? O l'hai ucciso per prenderti il merito del giro? Teoria interessante. Se non collabori, otterrò un campione dal nest. Non finché sarò figlio. Non finché sarò figlio. Dov'è Leon? Quando serve? No. 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 Anima. 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 Ah diavolo